Roberto Iorio il trionfatore di questa prima edizione della Coppa al Vinile è stato un bel torneo, ottimi avversari ottimi organizzatori come sempre Yuri Bacoli no, come Bacoli organizza sempre grandi tornei da calcetto, di tutto facciamo anche il campionato e vabbè, gli avversari sono stati validi soprattutto Balsamo pensavo di uscire in semifinale purtroppo è uscito lui e niente, che aggiungere? ti sei sentito un po' la sorpresa oppure sapevi di avere grosse potenzialità? no, un po' la sorpresa, non me l'aspettavo comunque, pensavo erano tutti validi, però non pensavo di arrivare fino in finale e vincere. Qui vediamo al di fuori tutti avvoltori su questa PSP te la tieni oppure sei destinato a cederla? Subito in vendita subito buonasera arrivederci buonasera 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 buonasera